ed eccoci qui partita che finirà pochissimo Monza-Lazio 2-2 mamma mia che partita ragazzi ottimo ottimo per noi altri ovviamente per la Roma anche perché ce l'avevamo alle Carcagne quindi se vinceva toccava assolutamente vincere con la Juve cosa non facilissimo secondo me comunque Monza-Lazio 2-2 partita stop anche se secondo me c'è Lazio c'è un gran problema secondo me gioca in tempo e fulmetti primo tempo bene secondo tempo male secondo me Monza meritava secondo me ampiamente sto pareggio forse anche qualcosa di più non c'è niente da chiedere al campionato però questi non molono mai questi hanno un allenatore che ci tiene particolarmente anche se c'è niente da chiedere qualche posizione in più non fa mai male Monza che è a unicesimo con 45 punti Lazio 56 e quindi ottimo pareggio questo per noi come detto prima quindi sono contento non poco questo è poco ma sicuro nel gioco delle parti ovviamente intanto il buon Holland poker addirittura vediamo un attimo mi pare che avevo visto Holland 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 mamma mia top tra l'altro lo Sheffield Unitide leggeo primo su Instagram ha superato il bellissimo record di 100 gol subiti mamma mia ragazzi tra l'altro ne manco record perché Leicester Roletto ne ha subiti 102 quindi macca puttana a sto punto mi chiamavate tamia difende tanto piavo i soldi intanto difendevo da schifo uguale quindi mamma mia per carità tanto Lazio sotto la curva tifosi che mi sa che glielo del culo eh ma cocchi mia ringraziate Donati secondo me perché davvero che ha fatto una specie di stile Garsdorp che glielo ha letteralmente regalata la palla Donati a K-Pack Pro come cazzo si chiama quindi c'è un concorso dei peggiori in campo entrambi secondo me Donati c'è una discreta trippetta ho visto quindi non so come cazzo fa giocare in Serie A tra l'altro boh comunque bella partita ha risegnato un immobile non so come e quindi qua ciali vatela ciali ciali viatela non la beve nascaria intrusione intanto qui stanno a litigare i tifosi che cazzo stanno a fare litigano Marosic siamo a posto mamma mia che macello litigio in corso quei giocatori della Lazio quei tifosi della Lazio mamma mia che macello comunque dicevo goal di immobile Zaccani tra l'altro ha monito e poi subito sostituito sta mossa io sinceramente non l'ho capita perché tolto Zaccani è quasi morta la Lazio secondo me la stessa cosa di Luis Alberto tolto Luis Alberto addio Lazio e quindi chiedete scusa a Milan Juric io sono il primo perché mi piace come attaccante però oggi doppietta e quindi meno the match secondo me quindi niente Milan Juric che tra l'altro mi ricorda un po' Ciofani altro attaccante che non mi piace però intanto ho fatto un mucchio le gol stessa cosa dei mobili tra l'altro un tipo di attaccante che non mi piace per niente questi attaccanti così però intanto segnano e fanno loro e quindi alla fine ognuno ha il parere suo quindi grande Monza Lazio secondo me ha spregato un'occasione d'oro secondo me per vincere magari riacquisire posizioni in classifica e quindi 56 punti in Monza 45 come detto prima la Lazio tre vittorie in pareggio e una sconfitta beh direi che il ruolino le malte non era male anzi la Lazio forte risalita ma infatti da quando c'era Tudor hanno fatto una bella una buona stagione e quindi il Monza tre pareggi due sconfitte insomma mince una marea da tempo il Monza però c'è sempre non molla mai e quindi niente adesso gioca all'Inter sa solo Inter come detto ieri ah tra l'altro i gol l'ho preso molti gol 1-3 aveva detto anche 1-2 ho preso tutto ma oggi infatti ho preso tutto letteralmente perché ho chiuso la scalata l'altra volta da 10 stavolta mi sono fermata a 52 vabbè comunque buona ho messo il terzo step il gol del Bayern Monaco e Stoccarda ho preso già al primo tempo stessa cosa Dortmund Asburgo Torigo come cazzo si chiama e quindi tra l'altro ha lavorato anche su Instagram marcatore Reus perché è l'ultima stagione con il Dortmund una grandissima leggenda secondo me del Dortmund bello 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 ovviamente ho letto che chiude la carriera con il Dortmund ma non la carriera quindi non so dove andrà a finire ma io un annetto da Roma ce li vedrei male secondo me intanto il Nasser vince 1-0 partita da over 2-5 comunque bella partita senza che ci dilunghiamo come gli altri giorni di 80 minuti bella partita l'Inter come ho detto ieri secondo me una partita da gol over 2-5 2 over 1-5 ospite chi più ne ha più ne metta secondo me la partita bella aperta e fu così che finisse da 0 non credo ma nel calcio tutto può accadere quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto belle partite intanto qui è un buio che sapete più niente intanto il Girona 4-2 mamma mia che sta giù nel Girona ragazzi vediamo un attimo la classifica del Girona perché sono curioso ha appena segnato il Girona al 75esimo classifica anche questa è una partita da gol più over easy allora mamma mia il Girona 74 punti tra l'altro si perde il Barcellona e Real Madrid è campione di Spagna quindi sono contento per loro bella bel campionato Real Madrid molto meno secondo me il Barcellona che non è più quello di una volta però è nella rifondazione c'è poi resta qualche anno così un po' snob e quindi niente bene così abbiamo un altro Cadiz Granada e Almeria mamma mia l'Almeria 14 punti che schifezza le squadre peggio della serenità in Serie A 15 mamma mia Granada 21 il Cadiz 26 oramai non so quante giornate hanno in Serie in Liga Spagnola e hanno le squadre in 20 beh è come la nostra quindi il 38 quasi sfacciato oramai il Granada il Cadiz anche il Cadiz oramai chiappa per me queste rimangono le retrocesse in Liga e quindi niente madonna e quindi niente bella partita comunque ci siamo divertiti magari fosse sempre così e quindi niente puntamento a dopo per vedere com'è andata la partita dell'Inter a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie.